buongiorno a tutti bentrovati pregiamo insieme con il salmo 107 che è un grande ringraziamento per la salvezza che il signore accorda in mezzo ai pericoli rendete grazie al signore perché è buono perché il suo amore è per sempre in mezzo a tutta la storia in mezzo alle angustie alle strade insicure ai deserti e strade perdute dove non si trovano a città in cui abitare in realtà vi è un'unica grande e certezza l'amore del signore è per sempre una buona giornata e una buona preghiera con il salmo 107